dobbiamo fare una riunione io se perdo questo lavoro con un bambino così piccolo invece posso manca avvicinarmi con l'orbi lungo periodo poi sai che succede ma nel lungo periodo sono già morta come da me ne fredda una persona che non tornerà più l'indennizio di tuo figlio ora si che capisco i concorrenti del grande fratello la vita è fatta di rinunce e calci in faccia sega fone arrogante maleducato da quella bocca te escono soltanto volgarità che metempa d'acqua ma scusa permessi straordinari uscita anticipata io sono ucraina la vedete questa valvola doveva essere una valutazione solo sul piano lavorativo invece è diventato trono di spade famosa estrazione dai dim sus e di un fò com'è tu